Un saluto a tutti! In questo video ti offro delle anticipazioni davvero emozionanti, quindi ti consiglio di restare fino alla fine perché non te repentirai. Ma prima di iniziare con queste anticipazioni volevo darvi una bella notizia. Terra Amara non si fermerà questa settimana, ma fortunatamente continuerà anche la prossima dal 3 al 9 luglio e ci farà compagnia. Quindi seguitemi per non perdervi le anticipazioni della prossima settimana. Dopo giornate e vuoi estremamente difficili, finalmente arriva il momento tanto atteso. Zuleia si risveglia dal suo lungo coma, con un profondo sospiro di sollievo e riavbracci i suoi amati bambini che tanto le sono mancati durante il periodo di lontananza. Nei recenti avvenimenti, Musgan ha continuato a tentare in modo insistente di togliere la vita a Zuleia, ma fortunatamente non è riuscita a portare a termine il suo malvagio piano. È evidente che la nostra protagonista, con grande forza e determinazione, riuscirà a sopravvivere dopo un impegnativo intervento chirurgico, che ha richiesto oltre 8 lunghe ore. Dopo un lungo periodo trascorso in terapia intensiva, Zuleia finalmente riacquista la consapevolezza durante il lento processo di recupero. Demir, tormentato da un profondo senso di colpa, non l'abbandonerà mai, rimanendo al suo fianco costantemente. Si commuove profondamente nel vedere Zuleia aprire gli occhi, testimone di tutto il dolore che ha superato. La sorpresa più grande per Zuleia arriva quando scopre che Demir è stata al suo fianco senza mai abbandonarla. Anche Ilmaz, osservando da lontano attraverso la finestra di vetro, assiste al risveglio di Zuleia, ma parte senza dire una parola. Nel frattempo Demir si inginocchia davanti a Zuleia, implorando il suo perdono. Ti prego, perdonami per tutto il dolore che ti ho causato. Il giovane è avvolto da una tristezza profonda, poiché alberga in lui un ardente desiderio di costruire una famiglia insieme a Zuleia. Tuttavia è all'oscuro del fatto che Zuleia custodisce segreti che presto sconvolgeranno l'intera situazione. Ma prima di proseguire, se il video ti sta piacendo, ti pregherei cortesemente di lasciarmi un mi piace e di iscriverti al canale. Ti ringrazio di cuore se vorrai farlo. E adesso riprendiamo. Il giovane si rende conto che tutti la considerano responsabile di un presunto tentativo di suicidio, senza nemmeno immaginare di essere stata vittima di un complotto orchestrato da Mulga nel suo azea Beice. Nel frattempo Ilmaz è pervado da un profondo senso di colpa per quanto accaduto mentre Zuleia lottava per la vita. Ilmaz non si è mai allontanato da lei. Ilmaz, stanco del suo infelice matrimonio, desidera rompere le gambe con Mulga e liberare la donna amata dalla prigione in cui è costretta a vivere. Poco dopo all'ospedale la dottoressa avrà il coraggio di fare una visita alla giovane. La tensione comincia a salire mentre entrambe si scrutano negli occhi sfidandosi reciprocamente. La dottoressa ha un piano ben definito nella sua mente, negare categoricamente e sostenere ciò che tutti pensano, ovvero che la giovane donna abbia tentato il suicidio. Quando finalmente si trova di fronte a Zuleia, la dottoressa le dice con gioia falsa di essere contenta che sia sopravvissuta, ma le parole della dottoresca scatenano l'ira incontenibile di Zuleia che non esita a rispondere, ricordandole chiaramente tutti gli avvenimenti accaduti. Mulga, fingendosi sorpresa, insiste con tenacia sulla sua versione, sostenendo che Zuleia abbia provato a togliersi la vita da sola. Di fronte a te le affermazioni la protagonista reagisce con una rabbia intensa. Tu e tua zia avete inventato questa storia, ormai non mi sorprende più nulla di voi. Dice, la determinazione infuocata della ragazza si fa sentire mentre mette in guardia Mojgan avvertendola che pagherà per tutte le nefandezze commesse. Sarai chiamata a rispondere per ogni singola azione, hai mandato quel video ad Emir, mi hai strappato i miei figli e ora hai addirittura cercato di uccidermi. Credi davvero di poter eludere le conseguenze? Non avrò pietà di te, troverò un modo per farti soffrire lentamente, diventerò il tuo peggior incubo, ti annienterò. Zuleia determinata e animata da una rabbia travolgente bramma una vendetta implacabile contro Mojgan. Quest'ultima cerca di mostrarsi forte ma in realtà è pervasata un profondo timore per ciò che Zuleia potrebbe infliggerle. La notizia del risveglio di Zuleia riempie la billa di gioia e sollievo, in particolare Unkar manifesta una gioia palpabile nel vederla riprendersi. Tuttavia Mojgan resta agitata e decide di confidarsi con sua zia riguardo alle minacce ricevute dalla ragazza. Veice cerca di rassicurarla sostenendo che Zuleia non avrà il coraggio di parlare e che anche se lo facesse nessuno le crederà. Nonostante le parole rassicuranti della zia la dottoressa teme che Zuleia abbia architettato un piano ben orchestrato per mettere in atto le sue minacce. Più tardi la matriarca si fa strada nella stanza e Zuleia percepisce immediatamente una forte tensione tra lei e suo figlio. Con gli occhi in lacrime Unkar si rivolge a Zuleia supplicandola di porre fine alla sua vendetta poiché i suoi figli hanno un disperato bisogno della sua presenza. La matriarca si rivolge nuovamente a sua nuora sottolineando l'importanza di non ripetere mai più ciò che ha fatto e assicurandole suo costante sostegno. Nel frattempo Demir si trova fuori dalla stanza dell'ospedale ascoltando attentamente ogni parola pronunciata. Poco dopo con entusiasmo evidente la matriarca annuncia di avere una piacevole sorpresa per Zuleia. In quel momento sani e falso ingresso in stanza seguita da Dan e Leila. La presenza dei suoi figli scatena in Zuleia un'onda di emozioni poiché non vede l'ora di stare insieme a loro dopo così tanto tempo. Zuleia si avvicina ai suoi bambini e gli occhi di Unkar rimangono fissi su Demir osservando attentamente come Zuleia abbraccia affettuosamente i suoi amati figli. Demir visibilmente commosso si chiede se questo potrebbe essere l'ultimo atto di chiedere perdono a sua moglie dopo averla fatta tanto soffrire. Questo momento è di una bellezza straordinaria permeato di emozioni e profonde riflessioni. Siamo tutti consapevoli del dolore che una separazione può infliggere e speriamo che non si debba mai più sperimentare. Se dobbiamo versare le lacrime e vogliamo farlo solo per momenti felici di riunione come quello che stiamo vivendo in questo episodio sarà sicuramente uno dei momenti più memorabili della serie. Le anticipazioni finiscono qua. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace ed iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime anticipazioni di Terra Amara. A presto. Ciao. La dottoressa ha un piano ben delineato nella sua mente. Negare categoricamente e sostenere ciò che tutti credono, ovvero che la giovane donna abbia tentato il suicidio. Quando finalmente si trova di fronte a Zuleia, la dottoressa le rivolge parole di gioia per essere sopravvissuta. Ma le parole della dottoressa scatenano un'ira incontenibile in Zuleia, che non esita a rispondere con determinazione, ricordandole chiaramente tutti gli avvenimenti accaduti. Mugeigan, fingendo sorpresa, insiste con tenacia sulla sua versione, sostenendo che Zuleia abbia tentato il suicidio da sola. Di fronte a tali affermazioni, la protagonista reagisce con una rabbia intensa. Tu e tua zia avete inventato questa storia. Ormai non mi sorprende più nulla di voi, dice con determinazione. La determinazione infuocata di Zuleia si fa sentire mentre mette in guardia Mugeigan, avvertendola che pagherà per tutte le nefandezze commesse.